Musica Le gare contro Fidenza, Termal Ceccato e Palazzolo non si giocheranno allo Stadio degli Oliveti e a quanto emerso al termine del vertice tenutosi questa mattina a Palazzo Rosso al quale hanno preso parte tutte le autorità interessate lo Stadio degli Oliveti non è ancora agibile Abbiamo fatto presente a che punto siamo, gli impegni che il Comune si è preso per mettere a norma lo stadio che è un impegno importante e quindi lo stadio sarà aperto nel momento in cui ci saranno le condizioni di agibilità che è un impegno che ci siamo presi di fare il più rapidamente possibile Immaginare in tempi brevissimi, se stiamo parlando di sabato prossimo, è difficile immaginarlo del resto non era questo il calendario che ci hanno dato fin dall'inizio Stiamo lavorando per cercare di ridurre al minimo i tempi in cui la Massese giocherà fuori La Massese ha presa la notizia, sta valutando dove poter giocare le prossime gare Il Necchi Balloni di Forte dei Marmi, dove i bianconeri hanno giocato domenica a breve sarà sottoposto a lavori di rizzollatura e dunque sarà indisponibile Restano in ballo il comunale di Camaiore o lo stadio dei Marmi di Carrara e quest'ultima ipotesi costringerebbe la Massese a giocare di sabato È un problema che purtroppo se non ne veniamo fuori, secondo me, saranno delle ripercussioni sulla squadra perché non sappiamo nemmeno dove andiamo a giocare non è che abbiamo, non giochi qui, abbiamo fatto due partite, una Forte dei Marmi, una Pietra Santa ora quella che verrà non sappiamo dove andiamo a giocare Poi il Comune non si può fare nemmeno degli appunti perché questa giunta qui è arrivata ora cosa gli vuoi dire? Appena è arrivata hanno cominciato a fare i lavori si è trovata una situazione che è quella che è loro stanno lavorando però se purtroppo è vigile il fuoco tutti quelli che devono dare le certificazioni non le danno finché non hanno fatto i lavori cosa possiamo fare? Ora c'è da vedere se prima Fidenza accetta, se Carrara può girare il campo tutte cose che a maiore se ci danno il campo cioè siamo in una situazione drammatica io mi appello anche ai tifosi che ci danno una mano che non stiano a fare dei campanilismi se dovessimo andare a giocare a Carrara perché a sto punto qui o ci danno una mano tutti se no la Massese rischia proprio di sparire